Sono sicuramente felicissimo, finalmente ho detto bene, io devo ringraziare tanto la società che ha caduto in me in questi anni e mi ha dato la possibilità di crescere e mi ha aspettato. Questo trofeo se lo meritano loro, sicuramente il Presidente. Vabbè, voglio ringraziare la società, i sponsor, la famiglia Capello, Toscano, Antonio e San Bernardo che hanno creduto in me e mi ero licenziato l'anno scorso dopo l'11-0, quindi questo è per loro e per la mia famiglia. Adesso dobbiamo ovviamente festeggiare, goderci, perché appunto è il mio primo trofeo, i miei compagni sono già stati campioni, hanno vinto e diciamo che mi hanno diventato tantissimo, hanno fatto una prestazione super, quindi io devo dire anche grazie a loro, grazie a Giulie che è il mio maestro e adesso andiamo a festeggiare la Coppa, poi la lunedì penseremo al campionato, è ancora lunga! Prima di tutto ci tengo a scusarmi con la società e con il numeroso pubblico per la partita di basso livello principalmente da parte nostra, abbiamo giocato anche nel primo tempo una partita non all'altezza di una finale e probabilmente per un po' di timore loro per questo evento siamo riusciti ad essere avanti ma non era meritato nemmeno il 5-3 per noi, siamo rimasti in partita credendoci molto ma con un gioco non all'altezza per cui penso ci sia poco da spiegare, è giusto che abbiano vinto loro però hanno giocato... è una migliore palla puglia, quindi chi gioca meglio ha ragione, vince!